allora dove posso mettere questo però sono indeciso no 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 qua non va bene mettiamolo qua ecco allora ragazzi siamo tornati e adesso vi facciamo vedere tutta la savana così come è venuta ragazzi guardate guardate che bella è la cosa è stupenda guardate che meraviglia scusate è il mio frattino che è caduto se avete sentito qualcosa non si guardate di qualicare beh, che dire ragazzi la savana mia di Camilla è venuta davvero uno spettacolo e adesso cliccate qui davanti a me per vedere un altro video oppure cliccate sul mio canzino e iscrivetevi al canale ciao